L'edizione 2023 degli Stati Generali del Turismo non poteva che essere monotematica. L'appuntamento con Pesaro, capitale della cultura, è tanto epocale quanto ormai prossimo una manciata di mesi. Ecco allora che questo pomeriggio, nella sede pesarese di Alpitur, amministratori, operatori e stakeholder di turismo e cultura hanno calibrato le riflessioni sulla stagione trascorsa e l'impronta culturale che marchierà i prossimi mesi. L'Istituto Bergamo ha deciso con Brescia di anticipare la propria chiusura il 19 di dicembre il che vuol dire che il passaggio di consegne avrà in quella data e che vuol dire che siamo già formalmente in quella data in carica e responsabilizzati ad essere ufficialmente la capitale italiana cosa che avverrà naturalmente quando sarà il capo dello Stato a San Cirlo con una data che stiamo individuando nella seconda parte di gennaio ma è chiaro che è tutto un insieme di momenti a partire dello stesso capodanno diventa un'altra narrazione, diventa già una città come già lo si è percepito anche quest'estate dal punto di vista turistico, lo abbiamo visto anche dai dati anticipati oggi, una sostanziale tenuta rispetto a dati importanti del 2022 quando invece ci si aspettavano crolli chissà di quale percentuale rispetto ad altri ambiti. Invece è una stagione che sta andando ancora avanti dal punto di vista del mare, dal punto di vista della cultura, dei musei e crediamo che questo sia dovuto anche al lavoro asseminato diciamo nei scorsi mesi e soprattutto a quella che è un po' la promessa rispetto alla capitale del 2024 che c'è già la curiosità di venire a conoscere. Racconteremo le situazioni principali che si svilupperanno ovviamente come detto l'apertura, ovviamente un 29 di febbraio che è il compleanno bisestile di Rossini avrà un sapore ancora più importante quest'anno, lo farà la grande sfera che abbiamo individuato come elemento iconico un po' come l'albero della vita dell'Expo, abbiamo detto questo corpo tecnologico che campeggerà in piazza del popolo per tutto l'anno e che non sarà solamente bello da vedersi ma racconta la storia, lo farà in maniera collegata con la rete lo farà in maniera collegata con i temi di cambiamento climatico ad esempio ma anche con le istanze artistiche di tanti creativi che potranno entrare in rapporto con questo strumento da Pesaro ma anche da tutto il mondo una capitale che sarà fatta di tantissimi eventi partecipati dalle scuole, abbiamo oltre 70 scuole ad ora coinvolte nella provincia capite che questo genererà decine e decine di momenti e genererà anche un sentimento penso da parte dei nostri visitatori temporanei, dei viaggiatori temporanei che verranno a visitare la città e la provincia di un territorio che veramente brulica di cultura e aspettava da tempo un'opportunità come questa 365 giorni che però vogliono essere un momento culminante di un percorso che è già iniziato e che per noi deve avere un effetto almeno di 10 anni dobbiamo vivere questa opportunità un po' come è stato per Matera anche se ovviamente in scala minore essendo italiana e non europea ed essendo molto minore i finanziamenti però con quella visione lì, con l'idea di migliorare la visione anche culturale di accoglienza turistica nella nostra provincia L'esempio di Matera ma anche quello di Procida, capitale della cultura 2022 che è stata tema di riflessione del talk d'apertura degli stati generali moderato dalla direttrice di Rossini TV Emanuela Rossi fra gli interventi del sindaco Ricci, del presidente della campagna De Luca in collegamento e di Agostino Ritano, direttore artistico della candidatura sia di Procida che di Pesaro Il valore di una capitale italiana della cultura è anche nella sua capacità di sviluppare una grossa ed importante attrazione per il mercato del turismo lo abbiamo visto proprio a Procida nel 2022 dove grazie alla programmazione culturale il mercato del turismo, quindi le presenze hanno marcato un più 140% quindi significa che l'operazione di una capitale della cultura se ben condotta, ovvero con dei contenuti culturali di grande qualità genera due benefici il primo beneficio sulla comunità locale il secondo beneficio è sempre sulla comunità locale in realtà che si rappresenta al mondo intero ospitando appunto turisti e viaggiatori da tutto il mondo